Investire più in cultura vuol dire rafforzare la cittadinanza, rafforzare il senso di identità nazionale, renderci più orgogliosi di quello che siamo e forse anche più attenti a non far vincere i furbi ma premiare i bravi e i meritevoli. La cultura come antidoto alla corruzione. E' questa la strada da seguire, secondo Ferruccio De Bortoli, giornalista, già direttore del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera, che ha affrontato la questione alla conviviale organizzata allo Sheraton Lake Comotel dal Soroptimist Club di Como e dal Lions Club Comolariano. Relatore della serata, De Bortoli, ha dialogato con i due presidenti, rispettivamente Simona Gervasini-Ronzoni e Francesco Tagliabue, e ha incontrato le autorità cittadine. Como è una capitale della cultura, in una Lombardia che ha fatto e sta facendo molto. L'Expo è stata una grandissima occasione, non possiamo disperdere quella che sarà la grande eredità, anche culturale dell'Expo, legata proprio al cibo, alla sostenibilità delle produzioni, legata anche alla solidarietà, ma anche legata alla capacità delle nostre imprese di essere competitive sui mercati internazionali. Sebbene Como si muova meglio di altre province italiane, anche sull'Ario però non mancano episodi di corruzione e pericolose infiltrazioni della criminalità organizzata. I nostri anticorpi sociali, e in Lombardia ne abbiamo tantissimi, perché abbiamo una grandissima tradizione, i nostri anticorpi sociali qualche volta non bastano. E allora dobbiamo vincere anche una certa indifferenza, perché se siamo cittadini di un territorio, se siamo membri di una certa comunità, abbiamo forse anche il dovere di esercitare una forma di controllo sociale, perché la nostra indifferenza finisce qualche volta per essere anche complicità. Quindi l'importanza di investire nella cultura e nella formazione. Guardate quello che succede nelle tante città nelle quali si organizzano, come Como, dei festival letterari, culturali. C'è una grande partecipazione, crescendo questa sensibilità, questo senso di appartenenza, questo orgoglio di quello che si è, perché tutto sommato la società diventa migliore, più colta e quindi più refrattaria a fenomeni di carattere malavitoso oppure a eventi corruttivi.